Il professor Bianchini... Vada, se ne vada. Se ne vada! E lasci perdere Dio! Chloe sta molto male. Alla settice mia sta per morire. Mi dispiace. Ma io che c'entro? Ma come che c'entri, Giorgio? Potresti venire a trovarla. Forse sei l'unico che può aiutarla. Voi due siete stati molto legati. Quando si muore, si muore e basta. Tu sai che per un attimo ho pensato che non ce l'avremmo fatto? Sto scherzando. Bacchita! Vieni qua! Aspetta. Un esemplare dell'Africa selvaggia. Qui c'entra. È legenda impallinata? Grazie a tutti